Come ti vedi tra dieci anni? Come mi vedo tra dieci anni? È una domanda davvero difficile. Non lo so, mi vedo comunque attiva come adesso. Mi vedo sicuramente ancora in un percorso di crescita. Mi vedo come un high level advisor. Mi vedo parte di un'azienda affermata. Tra dieci anni mi vedo felice. Mi vedo insegnante di patinare sul ghiaccio. Tra dieci anni vorrei essere una marketing manager di un'azienda. Sicuramente mi auguro di aver superato molte sfide professionali. Mi vedo alla guida di una nuova grande innovazione. Auguro alla vita in futuro di avere ancora la stessa fame di conoscere e di sapere. Siamo a maggio 2021. Ricevi una telefonata nella quale ti viene comunicato che sei vincitore del Millennium Award 2021. Oddio. Mamma, insegnami a fare passi e fagioli. Vado a vivere a Milano. No raga, ho vinto. No! Non ci posso chiedere. Vingo, abbiamo vinto! Così contentissima. Grande, Vale. No, davvero? Andiamo a Boston, allora. Vale che è risultato vincitore del Millennium Award nella sezione My Sports Reportage. Sì! Allora? Oh, al Millennium Award. Veramente? Sono la reciclice. Ma, grazie! Che bella notizia! Grazie mille e grazie a voi! 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 Grazie.